Buongiorno a tutti, mi chiamo Borghetti Luca, sono rappresentante del secondo anno del corso di infermeristica a Pesaro. Registriamo questo video per dare supporto a tutte quelle figure competenti che lavorano ogni giorno all'interno degli ospedali per dare una risposta efficace a quella che è l'emergenza del coronavirus. Il consiglio che diamo a tutti i nostri coetanei e a tutte le persone è quello di rimanere a casa. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Vicenza, sono una rappresentante degli studenti di scienze infermeristiche per la sede di Pesaro e noi studenti, in quanto futuri infermieri, ci teniamo a rispettare quelle che sono le indicazioni che ci sono state date per sconfiggere questo virus. Noi studenti di infermeristica stiamo a casa. Io resto a casa. Fai come me, io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. Fai come me, io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa 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 Anche noi restiamo a casa Io resto a casa Io resto a casa, fatelo anche voi Io resto a casa 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 prima di giudicare gli altri dobbiamo essere noi a fare la differenza a distinguerci dalla mappa io resto a casa fatelo anche voi io resto a casa fatelo anche voi